In collaborazione con Vuoi aprire un'attività? Apri la tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza. Contatta ConfCommercio Ascom Bologna allo 051 64 87 550 Grazie a tutti Buonasera a tre spettatori di ETV e ben ritrovati a Daedalus nuovo anno, apriamo la stagione ancora come tutti i giovedì con un appuntamento in studio poi sapete che per due venerdì al mese avremo i nostri Daedalus speciali al di fuori di qui alla ricerca delle bellezze monumentali della città quest'anno, questo mese scusate, quest'anno cominciamo però con domani la partita del Bologna e quindi non avremo la possibilità di andare in onda giustamente si va allo stadio Dallara e slitteremo al terzo venerdì di gennaio ma dicevamo cominciamo con la stagione invece degli appuntamenti di attualità in studio e visto che il calendario invece in questo caso ci offre un'opportunità questa sera parliamo dei saldi perché domani appunto cominciano i saldi invernali per questo abbiamo in studio con noi e lo salutiamo con piacere Marco Cremonini, presidente di Federmoda Bologna buonasera, benvenuto a Daedalus grazie dell'invito grazie a lei perché appunto è un momento importante per l'economia, per i bolognesi che hanno l'opportunità di risparmiare qualche soldino e per l'economia come dicevo della città perché chiaramente sappiamo, ci avete detto più volte voi commercianti che nel periodo degli acquisti natalizi e dei saldi invernali si gioca gran parte del fatturato soprattutto delle imprese, dei negozi di abbigliamento di tutto l'anno e allora Cremonini con che spirito intanto affrontate questi saldi che cominciano, dicevo appunto del calendario con l'opportunità di avere un weekend lungo grazie all'epifania allora c'è senz'altro un velato ottimismo da cosa dipende questo ottimismo? innanzitutto dal fatto che alcuni dati dell'economia in generale tipo l'inflazione, sembra che ci sia un leggero ca dalle stime di Conformercio Nazionale dicono che rispetto all'anno scorso ci sarà un incremento sulle vendite si parla di più di 300 euro a famiglia queste notizie ci fanno sicuramente sperare in un avvio dei saldi sicuramente nel periodo dei saldi dove i negozi di vicinato hanno passato sicuramente un dicembre positivo per le vendite però un inverno un pochino a livello climatico un pochino difficoltoso perciò sicuramente avremo la possibilità di avere come sempre i negozi disponibili con un servizio e soprattutto anche con del prodotto recente che hanno visto durante le feste natalizie ecco questo prodotto sicuramente può essere scontato a portata del consumatore con degli sconti buoni e sicuramente può dare un aiuto in un momento così difficile anche lo stesso consumatore ecco appunto come cambia l'approccio dei consumatori secondo lei nei confronti dei saldi nel senso che si parla sempre di crisi economica quindi immagino che abbiano magari meno soldi nel portafoglio e quindi aspettino tutti i saldi ma c'è quindi si crede ancora molto nei saldi? allora in questi ultimi anni devo essere sincero con tutti gli eventi che ci sono successi la pandemia, le guerre che hanno sicuramente rallentato il commercio l'approccio del consumatore è cambiato questo è un aspetto importante è un aspetto che va valutato da noi della ConfCommercio e lo stiamo facendo perché andremo sicuramente a modificare dopo ne parleremo magari di queste cose qui di come accogliere il cliente sta nel consumatore, sta nel commerciante far tornare il compratore all'interno delle attività proprio cercando di accoglierlo in maniera diversa con più vicinanza essere un pochino più sociali renderlo come in casa propria che io dico sempre è il momento dell'approccio questo l'abbiamo perso nei periodi non belli purtroppo e vedo che ultimamente c'è da parte del nostro cliente proprio un'entrata in negozio con più soddisfazione con più sorridono e sono anche un pochino più disposti a comprare questo è un sentato positivo perciò io andrei sicuramente incontro a queste nuove esigenze per vedere nei saldi sicuramente un afflusso che ci può dare una mano ConfCommercio Bologna anche quest'anno lancia la sua campagna Saldi Tranquilli e allora vogliamo ricordare Cremonini quali sono le regole d'oro per i consumi per i consigli per chi va a comprare in saldo le regole sono sempre quelle ma sono sempre molto importanti da rispettare da parte del commerciante innanzitutto nelle vetrine all'interno dei negozi deve essere indicato il prezzo di vendita lo sconto e quanto dovrà pagare il cliente questo è importantissimo si devono accettare i pagamenti con le carte di credito questo è un altro aspetto importante per dare la possibilità al cliente al consumatore di avere un'agevolazione sul pagamento si deve sicuramente dare la possibilità al cliente se viene sbagliata la taglia se ci sono problemi sul prodotto che può cambiarlo sicuramente altra cosa importante deve essere sicuramente il fatto che il cliente deve avere la serenità all'interno dell'attività proprio sentire il commesso il proprietario il commerciante che diano la sincerità diano al cliente la sicurezza di comprare un prodotto di suo gradimento questo è importante e gli sconti al 70% sono credibili? allora questo è un argomento che mi fa sorridere ma lo analizziamo allora gli sconti al 70% dipende sempre da che punto arrivano da che negozi arrivano perché se è una catena che lo fa sicuramente possono essere visto che c'è un passaggio in meno bisogna chiarirlo questo aspetto qui l'azienda che ha un negozio perciò diciamo che vende direttamente dalla produzione alla vendita ha sicuramente una marginalità diversa perciò su certi prodotti ci può stare anche degli sconti di questo tipo perché la marginalità è diversa se andiamo nei multi brand se andiamo nei negozi dove hanno un passaggio in più dove dall'azienda c'è un altro passaggio c'è il cliente che siamo noi dei negozi che lo vendiamo sicuramente il 70% non può essere fatto uno sconti del 70% perché non c'è marginalità nel ricavo nel guadagno assolutamente no i saldi i saldi daranno una mano anche al tessuto economico bolognese in particolare appunto il settore abbigliamento per affrontare questo periodo di crisi a cui faceva riferimento all'inizio allora Bologna ultimamente bisogna metterlo sicuramente una città che a livello di turismo si è incrementato moltissimo è un turismo diciamo più che commerciale culturale ma va bene ugualmente perché la città sta prendendo veramente quota con i turisti sia nel reparto ristorazione ma anche nei reparti delle attività commerciali diciamo che i saldi sicuramente saranno un motivo per far tornare il consumatore all'interno dei negozi di vicinato sicuramente sarà un vantaggio per tutta la città ma diciamo che in questo periodo di saldi sicuramente sarà importante che il lavoro nei nostri negozi prenda quota per quello che abbiamo perso durante l'inverno diciamo nel mese di ottobre novembre per poi avere una possibilità di entrare nella nuova stagione con i magazzini un pochino meno pieni sicuramente come vede queste novità che riguardano anzi già da oggi la viabilità nel centro di Bologna lei ovviamente parla come Federmoda Bologna quindi si parla anche dell'ambito metropolitano però in questo caso concentriamoci sul centro della città perché con quello che sta succedendo alla Garisenda ci saranno inevitabili problematiche anche nella circolazione per far arrivare le merci per far arrivare i clienti io credo che il periodo della mobilità a Bologna in questo momento va molto molto attentamente esaminato perché adesso la Garisenda purtroppo non era prevedibile però ci sono altri grossi eventi su Bologna che condizioneranno il futuro il tram il passante ecco voglio dire quando si parla di accessibilità nel centro bisogna tenere presente questo lo dico anche ai nostri amministratori sui quali abbiamo sempre un rapporto di confronto che l'accessibilità nei punti vendita è fondamentale per avere una vendita al cliente cioè se non c'è se non si riesce ad arrivare sui negozi se non si riesce ad arrivare agevolmente sui negozi a fare shopping diventa veramente un problema per sostenere le spese di un'attività le spese sono alte le spese nel centro storico di Bologna che è un bellissimo centro storico sono spese di affitti di personale di tante tasse giustamente che vanno pagate all'amministrazione comunale perciò voglio dire il tutto deve far sì che ci sia un'accessibilità nei negozi in questo momento la Garisenda ha complicato un pochino le cose per l'accesso al centro ha complicato perché già il parlarne è negativo perché la gente si ferma e pensa non si riesce più ad andare in centro diventa difficile in più ci sono le zone diciamo soprattutto quelle sotto le due torri la zona di San Vitale la zona della strada maggiore che ci sono tantissime attività ma non solo d'abbigliamento ma anche attività che riguardano altri prodotti ecco in questo momento c'è bisogno di un aiuto da parte dell'amministrazione c'è un rapporto che la nostra associazione è sempre in contatto con il comune stanno cercando di trovare delle soluzioni perché i tempi sembra che non sono stati definiti ma siano abbastanza lunghi ecco questo la mobilità diventa per il centro storico di Bologna sicuramente un problema per quanto riguarda le attività noi faremo di tutto come Conf Commercio come Federazione Moda ma anche come Ascom di cercare delle soluzioni e di cercare da parte dell'amministrazione comunale una collaborazione per cercare di essere più vicini ai nostri associati questo è fondamentale per noi perché il periodo purtroppo che sta venendo il commercio in generale è un periodo che viene da come dicevo prima da fattori importanti che hanno rallentato molto l'economia e c'è bisogno di una ripresa e questi problemi di mobilità la possono rallentare cerchiamo quindi di dare un segnale positivo un segnale di fiducia perché quest'anno mi diceva che i saldi cominciano domani in tutta Italia praticamente questo è già un segnale positivo e poi le chiedo anche per esempio lei so per quei pochi che non lo sapessero Marco Cremonini ha un'attività commerciale in via d'Azeglio quindi in pieno centro a Bologna ecco quali sono per esempio gli articoli che possono essere che le sono rimasti che possono essere venduti e possono costituire più un affare per i clienti certamente come dicevo prima la stagione non ha aiutato sulla vendita dei capi pesanti questo riguarda Cremonini ma riguarda tutte le attività certo sì infatti prendo lei come esempio sì soprattutto mi vengono in mente gli articoli sportivi mi vengono in mente coloro che vendono capi diciamo anche importanti i piumini i cappotti sia nell'ambito femminile che nell'ambito maschile ecco voglio dire questi sono senz'altro i capi che hanno sofferto di più durante diciamo il periodo invernale la stagione non ha aiutato e sono anche forse più cari e probabilmente questo fatto di avere gli sconti e avere la possibilità di dare un assortimento di questi capi a chi è interessato con un consiglio con un consiglio anche di professionalità e anche di competenza perché da parte del cliente ci sono esigenze come dicevo prima è cambiato molto e hai esigenze giustamente ti pone domande che tu devi essere preparato faccio un'ipotesi sui piumini su quale temperatura può arrivare insomma ci sono delle situazioni in cui veramente il commerciante o chi è chi lavora per il commerciante deve essere informato perciò dico e ripeto che questi tipi di capi che hanno un valore molto alto sicuramente c'è l'opportunità di trovarli assortiti e anche scontati e credo che sia un vantaggio per il consumatore quindi capi in spalla anche pesante senta prima di fare una brevissima pausa le chiedo anche cominciamo a guardare anche un po' il futuro lei che appunto è esperto nel settore Presidente di Federmoda Confcommercio Ascom come migliorerebbe tutta l'architrave l'architettura che sta e che governa i saldi in Italia cioè li cambierebbe se potesse cambiarli da oggi al domani cosa farebbe per migliorare questa è una domanda che mi fa sorridere perché io ho sempre sostenuto personalmente al di fuori della federazione dove anche sono stato Federazione Moda Italia io ho sempre sostenuto che se c'è un cambiamento ed è epocale nel nostro settore dopo sul quale io mi posso anche soffermare su vari argomenti ne possiamo anche parlare perché questo cambiamento chi non lo segue non può rimanere nel mercato sono certo credo magari trovando delle soluzioni e questo sicuramente Federazione Moda lo farà Italia lo farà perché ci si rende conto proprio che cambia il settore e non cambiano le regole tipo il regolo dei saldi qui le strade sono sempre state diverse perché c'è chi li vorrebbe posticipare c'è chi li vorrebbe liberalizzare ecco io lo posso anche dire l'ho sempre detto l'ho detto in consiglio lo dico sempre io personalmente ho sempre pensato che quando il mercato si fa duro il mercato si fa complicato il mercato si fa difficile da portare avanti perché ci sono le vendite online ci sono le aziende ci sono le aziende che vendono è diventato veramente molto complicato io credo che la liberalizzazione questo lo dico l'ho sempre detto possa senz'altro dare la possibilità ad ogni attività gestendosi in maniera guardando la marginalità di organizzare i saldi in maniera diversa è vero che si perde il rumore mediatico del fatto del salto ma è anche vero che dai un servizio è un prodotto magari a dei clienti che forse non si muovevano per i saldi questo va detto poi c'è chi sostiene e questo io posso essere d'accordo anche qui con delle determinate modifiche di poterli posticipare perché il Natale è sempre molto vicino ai saldi e sappiamo benissimo che se un capo e quei capi che dicevo prima proprio i capi importanti che hanno un valore alto ma poterli prendere durante i saldi sicuramente è un risparmio il Natale perde un pochino di competitività e anche di marginalità perché si cale un po' di fatturato perciò il posticipo poi aggiungo l'ultima cosa io li terei un pochino più ridotti come periodo per dare la possibilità al commerciante di organizzarsi in maniera più breve e nello stesso tempo battezzare un periodo diverso come dicevamo prima e nello stesso tempo già iniziare visto che la stagione è cambiata questo è un altro tema principale non si capisce più quali sono le stagioni di dare la possibilità al commerciante di organizzarsi anche per altre stagioni senza i saldi questo è importante diciamo adesso che viene adesso il freddo quindi aspettare ancora qualche settimana prima di partire con i saldi ci fermiamo una brevissima pausa poi di nuovo in studio con Marco Cremonini ancora per parlare non solo di saldi ma di moda e di dove sta andando tutto l'ambiente il comparto dell'abbigliamento a tra poco seconda parte di Daedalus stasera parliamo di saldi e siamo tornati con il nuovo anno proprio nel giorno prima della partenza dei saldi invernali in tutta Italia ne stiamo parlando con Marco Cremonini presidente di Federmoda Bologna e di Commercio Ascom dicevamo però nella prima parte anzi lei ha detto che tutto il settore dell'abbigliamento si sta evolvendo insomma in qualche modo sta cambiando evidentemente come tutto cambia e allora come diceva Darwin a sopravvivere quando ci sono dei cambiamenti non è detto che siano anzi quasi mai sono i più forti ma sono coloro che si adattano con più rapidità ed efficacia alle novità e allora intanto le chiediamo come sta cambiando il settore dell'abbigliamento anche a Bologna il settore dell'abbigliamento io lo definisco un cambiamento epocale proprio perché è un cambiamento totale dal prodotto cioè tutta la filiera sta veramente cambiando il prodotto il tipo di vendita e anche il tipo di accoglienza all'interno delle attività cioè proprio è cambiato completamente con l'aggiunta del digitale perciò innovazione digitale queste cose e cambiamento della costruzione del prodotto sicuramente è d'obbligo una formazione dopo ne parleremo parliamo del prodotto che mi sembra l'iniziale il prodotto è quello che esce dai negozi quello che la gente cerca è quello che quella che la gente cerca ecco rispetto a degli anni io che non sono molto giovane rispetto a degli anni fa è cambiato completamente la costruzione e anche il tipo di tessuti che vengono usati questo cosa comporta comporta un apprendimento da parte di chi vende per proporre il prodotto e un'altra cosa molto importante la manutenzione e la modifica dei prodotti con cambiamento di tessuti perché ricordiamoci che nel nostro settore il prodotto quando va venduto va anche modificato a volte non è detto che vada sempre perfetto perciò questo è già un e poi la conclusione che ci arriva dai nostri governanti che hanno lavorato in una maniera giusta c'è anche il prodotto del riciclo cioè il prodotto le aziende stanno cercando di dare un prodotto che quando smette il cliente di metterlo invece di buttarlo nel bidone nel macero di queste cose che tra l'altro è un grosso inquinamento veramente grosso ovviamente viene riciclato viene ripreso dall'azienda ricostruito rifatto oppure prende delle altre strade che sono molto interessanti quello sicuramente della donazione a chi ne ha bisogno ci sono talmente questi aspetti che hanno fatto sì che questa economia circolare del prodotto abbia sicuramente fatto cambiare il tipo di prodotto alla vendita ma anche nella filosofia delle persone che comprano sicuramente entra una nuova filosofia una nuova mentalità che questo è importante per l'acquisto perciò questo è il primo punto che è importante definire il prodotto non è più quello di prima è un prodotto cambiato è un prodotto che va verso direzioni diverse poi sicuramente c'è anche il digitale va detto questo rispetto tanti anni fa ma anche recentemente chi non si aggiorna chi non ha sicuramente il modo di interagire col cliente perché non è detto che c'è solo la vendita online ma c'è anche la vendita che viene fatta tramite i social cioè tutti questi argomenti qui per la nuova generazione sono semplici per i proprietari tipo me che sono persone che sono anni che sono all'interno del negozio che vivevano più del sociale adesso si devono aggiornare questa è un'altra cosa molto importante e poi arriva sicuramente la parte fondamentale ci vuole l'apprendimento delle lingue perciò l'accoglienza deve essere fatto non solo con gli italiani ma anche con gli stranieri e questa è una cosa fondamentale io mi ricordo che eravamo abituati nei tempi negli anni passati che quando entravano gli stranieri giravano per i negozi toccavano e poi prendevano e ti mettevano sul banco ecco anche questa è una cosa che è cambiata gli stranieri entrano devono essere accolti anche loro e bisogna interagire con loro nella lingua naturalmente adatta alla loro provenienza e essere subito predisposti a spiegare l'articolo e a proporgli di indossarlo e di federselo addosso queste cose qui va formato il commesso va formato anche il commerciante anche il proprietario perché sono abitudini nuove infatti come associazione stiamo lavorando proprio su questo aspetto per fare dei corsi ai quali chiediamo di partecipare sia ai commessi sia anche ai proprietari proprio perché ci sono degli aggiornamenti che sono sicuramente adatti a formare il proprietario dei negozi aggiungo che è il tema che mi sta più a cuore che è quello del ricambio generazionale dei giovani questo è un settore come tanti altri settori ma sicuramente ne sta pagando le conseguenze maggiori dove non c'è un ricambio generazionale nelle attività e i giovani si inseriscono difficilmente in questo settore credo che è passato un po' il periodo dell'abbigliamento della passione dell'abbigliamento però io mi sto accorgendo nella mia attività che ci sono due cose che mi fanno molto piacere che i giovani che entrano sono interessati e competenti questo non va sottovalutato perché questo vuol dire che bisogna dar fiducia ai giovani in tutti i settori e quando un giovane entra dentro un negozio di abbigliamento ed è informato ed è consapevole di quello che compra e ha i propri gusti questo è un vantaggio che dobbiamo portare nelle nostre aziende e far sì che ci sia un ricambio generazionale nei commessi e magari anche qualche figlio che continua la propria attività del padre perché c'è bisogno e bisogna dar fiducia ai giovani io su questa cosa qui ci credo tanto tant'è vero che sto organizzando in Confcommercio dei corsi proprio di formazione per quanto riguarda la vendita e per quanto riguarda l'accoglienza all'interno dei negozi aggiungo come dicevo prima l'ultima cosa del cambiamento epocale che non c'è più la manualità nelle nostre nei nostri negozi non c'è più chi aggiusta chi fa le riparazioni soprattutto su prodotti di difficile riparazione i cosiddetti sarti no? cosiddetti senza cosiddetti io tra l'altro mio padre era un sarto e sono legato molto alla sartoria tra l'altro noi abbiamo ancora la sartoria e lavoriamo per fortuna con la nostra sartoria però mi rendo conto che il futuro in questa direzione è molto difficile tant'è vero che stiamo lavorando sempre come Confcommercio è un pochino più difficile perché fare dei corsi di manualità di sartoria è un pochino più legato all'artigianato però vediamo che c'è grande e questa è una cosa molto positiva la sottolineo c'è grande attenzione anche noi spesso riceviamo avendo una sartoria domande di qualcuno che vuole venire imparare a fare il sarto questo è un segnale forte ed è un segnale che i giovani non è detto che siano sempre portati a andare a fare certi lavori o andare a studiare giustamente prepararsi a livello sicuramente intellettuale ma è anche importante che facciano dei lavori di manualità questo può essere per il futuro della nostra attività molto positivo quindi se posso riassumere lei consiglia due grandi direttrici da una parte il seguire quella che è la direzione della tradizione quindi il negoziante che così come si è sempre fatto accoglie il cliente interagisce con lui con la novità delle lingue straniere quindi imparare lingue e dall'altra parte una grande attenzione all'innovazione quindi a tutto ciò che è digitale tutto ciò che è online che è social insomma bisogna studiare per i prossimi per i prossimi anni i titolari di un negozio di abbigliamento devono hanno del lavoro da fare insomma sì più che studiare sui giovani il quale io credo tantissimo credo che arrivano già preparati sotto certi aspetti il digitale le lingue sicuramente diventa importante far tornare o far avere a loro una passione su un abbigliamento che non hanno mai conosciuto ecco questo è il punto centrale tant'è vero che quando dico formazione dico competenza spesso la nomino questa parola qui perché la competenza io che è tanti anni che faccio questo lavoro mi metto spesso in discussione sulle conoscenze del prodotto sulle vestibilità su il consigliare al cliente quale tipo di prodotto prendere perciò queste sono le cose che nel tempo si devono costruire nelle nuove mentalità dei giovani aggiungo anche un'altra cosa molto importante sui giovani i giovani hanno sicuramente un pochino più di fantasia hanno un pochino più di voglia di emergere e questo va tenuto presente perché sicuramente la cultura ce l'hanno perché hanno studiato la maggior parte sono sicuramente laureati ma sicuramente hanno voglia di emergere questo mi piace tantissimo in tutti i settori perché sono tanti i settori che manca la mano d'opera però nel nostro settore questo deve essere un motivo di grande orgoglio perché abbiamo fatto una premiazione recentemente con la ConfCommercio che di solito premiavamo le attività storiche che erano tanti anni che erano sul mercato abbiamo premiato un ragazzo giovane che ha subentrato al Prado e ha preso l'attività l'ha presa in mano lui da sola questo è un segnale forte che diamo per il futuro quindi fantasia quello che noi bolognesi chiamiamo sbuzzo ci vuole anche un po' di quello senta questo per quanto riguarda i giovani i titolari giovani le nuove attività e invece per quanto riguarda i dipendenti noi sentiamo sempre dire anche qui a Dedalus ce lo ripetono che anche a Bologna mancano nei ristoranti quelli che fanno i lavapiatti i camerieri anche nel settore dell'emigliamento è così i commessi si fa fatica a trovarli sì allora si fa fatica a trovarli perché purtroppo nel nostro settore la cosa che incide più negativamente è il fatto degli orari del lavoro i negozi adesso hanno degli orari molto diversi rispetto a anni fa con la nuova legge Bersani sicuramente c'è stata questa libertà delle licenze ma nello stesso tempo degli orari nei centri storici sono aperti anche i giorni festivi perciò questo è un ostacolo che sicuramente come può essere nei ristoranti negli orari può essere anche nel nostro settore però credo che se si io sono sempre molto ottimista su queste cose credo che se il giovane si rende partecipio sull'attività si rende in maniera positiva che rende all'interno di un'attività di abbigliamento gli si dà l'opportunità di acquistare di studiare di fare secondo me è lì dove manca cioè se si arriva alla passione sicuramente superiamo anche il problema degli orari bisogna far nascere la passione insomma nei confronti dei giovani io ci credo molto perché vedo seguendo molto bene il discorso delle cerimonie che siamo molto specialisti perciò di regola di regola può essere l'eccezione si sposano i giovani vedo che hanno sicuramente tanta voglia di imparare e tanta capacità questo mi fa molto piacere perché bisogna credere nei giovani dare un pochino spazio ai giovani e le persone un pochino meno giovani cominciare a mettersi pian pianino da parte allora in vista di domani noi ringraziamo Marco Cremonini che ci ha detto appunto capi in spalla capi pesanti andate a cercare quelli anche perché il freddo pare che arrivi ce l'ha detto il meteo anche nei giorni scorsi grazie quindi a Marco Cremonini presidente di Federmoda per essere stato qui con noi io ringrazio TV e Rete 7 per questa opportunità perché in un momento come questo il nostro settore ha bisogno di mettere in evidenza le criticità ma allo stesso tempo le cose positive e questo è il momento proprio perché nel cambiamento bisogna far capire a tutti a noi stessi e ai consumatori che è il momento di cambiare sempre con grande affezione grande amore per la città di Bologna grazie Marco Cremonini grazie a voi per averci seguito vi auguro una buona serata in collaborazione con grazie a tutti grazie a tutti